La responsabilità degli adulti verso i bambini nell'educarli alla fede e l'invito ai più piccoli a pregare Gesù per camminare nella verità e nell'amore. Sono le due indicazioni suggerite da Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, alla quale hanno partecipato numerosi bambini. Un cristiano afferma deve prendersi cura dei ragazzi, dei bambini e trasmettere la fede, trasmettere quello che vive e che ha nel suo cuore. Non si possono ignorare, soggiunge il Papa, le piantine che crescono. Poi nel dialogo con i piccoli presenti, Francesco chiede loro di guardare alle persone grandi che danno il buon esempio nella vita cristiana. Una vita che prima di tutto credere la verità e amare Dio e gli altri. Da qui l'invito a pregare Gesù perché proprio ai più piccoli doni la grazia di camminare nella verità e nell'amore. È importante, tutti noi abbiamo una responsabilità di dare quel meglio che noi abbiamo. Quel meglio che noi abbiamo è la fede, darla loro, ma darla con l'esempio, con le parole non serve. Con le parole, oggi le parole non servono. In questo mondo dell'immagine, tutti questi hanno il telefonino. Le parole non servono. Esempio. Esempio. Cosa do loro? Esempio. Grazie a tutti